Ciao, sono Gianluca Bocci e molti di voi mi hanno detto più e più volte nei commenti ah, perché parli di prodotti così costosi e invece non è vero perché tra i miei quasi 300 video insomma andatevi a scorrere anche i video più vecchi del buon vecchio Gianluca Bocci no, troppo vecchio Gianluca Bocci ci sono video di prodotti sia lussuosissimi sia economicissimi e oggi si parla di un oggetto, un amplificatore per cuffie ibrido ibrido perché ha sia due valvoline come lo vedete qui sopra ma comunque in realtà sono la parte di preamplificazione la vera botta di potenza, anzi bottina di potenza, poi vi spiego perché vengono dati da degli operazionali quindi a stato solido quindi è un amplificatore ibrido ma che in realtà è davvero eccezionale perché ha sia gli ingressi sia l'uscita bilanciata quindi permette di utilizzare cuffie con collegamento bilanciate o detto meglio a masse separate si chiama LOXGE P20 è economicissimo trovate il link in descrizione prezzo sui 100 euro ve lo dico subito ma per il resto siccome il video è sempre molto dettagliato con molte cose interessanti seguitelo fino in fondo iniziamo subito dall'unboxing ecco qui la confezione dell'OXGE o come caspita per pronunciato P20 appunto un amplificatore bilanciato valvolare comunque ibrido come vedremo tra poco confezione faccio un po' vedere le caratteristiche vabbè c'è scritto quasi niente qui c'è questo bollino rosso che ci indica una cosa molto interessante colpisce la presenza del bollino Hi-Res Audio che non vuol dire nient'altro che la risposta in frequenza dovrebbe coprire quella richiesta appunto da questo bollino andiamo ad aprire pronti 1,2,3 sbabam niente 1,2,3 sbabam e già meglio che si vede il colore allora dotazione abbiamo alimentatore switching da 12V 1,67A poi il cavo di alimentazione alimentazione di tipo italiano bene quindi non servono adattatori c'è lui che lo tiriamo fuori ho tutto già montato caspita se è bello questo rosso davvero davvero bello non c'è niente da dire in questo senso vediamo se c'è dell'altro non c'è neanche un manualino ino ino sì letteralmente manualino ino ino in lingua orientale e in inglese come è giusto che sia bene vado a prendere e collegarlo e poi vediamo un po' come funziona perché sì c'è anche un piccolo display ok visuale da vicino per vedere bene le connessioni subito una cosa negativa non ci sono delle uscite passanti quindi se noi le vogliamo collegare tra il preamplificatore e l'amplificatore finale non possiamo farlo perché ci sono soltanto ingressi comunque scelta sia di ingressi bilanciate o a masse separate qui vado a collegare i classici recable di cui vi lascio la prova completa qui sopra l'indicazione è semplice quindi il rosso va posizionato qui quindi il destro il sinistro va posizionato qui connettori di ottima qualità si sente proprio che l'aggancio è fatto bene ovviamente possiamo andare anche con dei collegamenti collegamenti classici RCA sempre con i recable stesso discorso il canale destro eccolo qui il canale sinistro eccolo qua in maniera molto semplice e poi tra l'altro anche abbastanza pesante i cavi della recable che sono belli tosti non riescono comunque a trascinarlo via ovviamente l'ultima cosa da collegare è l'alimentazione la colleghiamo e giriamo per guardare interessante tutta la parte avanti accensione tramite pressione lunga ci dice P20 si sente un ticchettio e possiamo andare a regolare il volume che va da meno 60 a 0 tramite una pressione singola possiamo andare a scegliere quale uscita utilizzare le uscite sono la O1 a quella appunto bilanciata masse separate la O2 invece quella con il classico connettore femmina da 6,3 mm altra pressione possiamo andare a scegliere gli ingressi che abbiamo visto prima sono identificati come in 1 in 2 con i relais che sotto sotto vanno a ticchettare in sottofondo ultima cosa che vi faccio vedere è messo in questo modo non mi si dovrebbe spegnere forse no e vado ad abbassare le luci molto 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 per farvi vedere l'effetto che fa praticamente i due led che si trovano qui all'interno e ovviamente i due punti del filamento che sono diventati incandescenti sulle valvole ma adesso vado a fargli prendere quello che era il posto del glorioso Juttenheim di cui vi lascio la prova qui sopra prendo due o tre cuffie e ne discutiamo insieme come l'ascolto e infatti eccolo qui collocato vicino alla mia collezione di pupazzetti davvero nerd geek e si apprezza che effettivamente è molto piccolo e giustamente ecco le cuffie con cui l'ho provato ma prima fatemi puntualizzare un paio di cose innanzitutto il rodaggio ne parlavo proprio oggi su Instagram alcuno di voi di tanti che mi seguite mi raccomando seguitemi anche su Instagram come genluca.bocci e voglio dire questo il rodaggio praticamente il far girare far funzionare per un certo periodo di tempo un apparecchio per l'ascolto è importante ma non fa miracoli è importante che permette a tutti i componenti forse non so per una cuffia permette appunto alle membrane di assestarsi nelle loro sedi di trovare la giusta elasticità per lavorare in meglio alcuni componenti come le valvole con il calore che sviluppano appunto vanno ad assestarsi e via dicendo ma attenzione non fa miracoli pensiamo a un paragone con il mondo delle automobili se noi prendiamo una panda e gli facciamo fare il rodaggio al fine del rodaggio non è che diventa una Ferrari stesso discorso un dispositivo audio prima di giudicare se è buono o cattivo va fatto un buon rodaggio diciamo almeno una cinquantina d'ore ma ovviamente anche il primo ascolto se c'è qualcosa fuori posto difficilmente andrà del tutto a posto dopo il rodaggio si va assolutamente a migliorare quindi se rende diciamo all'80% una sua caratteristica dopo il rodaggio arriverà a un 85% a un 100% no appunto niente miracoli seconda cosa questo bollino Hi-Res Audio messo lì con tanto orgoglio da questa azienda attenzione l'Hi-Res Audio è riferito specialmente al tipo esorgente quindi l'MP3 non è audio ad alta risoluzione mentre per esempio un file a 24 bit 96 kHz quindi superiore al CD che grosso modo sotto il CD non è Hi-Res Audio sopra la qualità del CD è Hi-Res Audio in questo caso sì quando si parla di amplificazione più che altro è riferito alla risposta in frequenza diciamo tutte quelle applicature che permettono di avere una risposta in frequenza oltre i 20 kHz rientrano in questa Hi-Res Audio come vedete da questa schermata ma attenzione quella curva risposta in frequenza è una presa a cassaccio su internet non è quella appunto riferita a questo amplificatore ma c'è da dire che se andiamo a vedere la scheda audio appunto del nostro P20 troviamo tantissimi dati ma non quella che è la risposta in frequenza quindi non sappiamo se effettivamente si spinge oltre i 20 kHz e siamo anche onesti in realtà superati i 40 anni quindi io che sono sui 43 verso i 44 effettivamente arrivo verso i 16-17000 16-17 kHz come riesco a percepire i suoni quindi sopra i 20.000 è inutile sì e no nel senso anche quei suoni che non riusciamo a dire sono di armonici quelli che rendono il suono più ricco più piacevole più emozionante però non si sa onestamente se si arriva a quel livello comunque e ho fatto una pazzia mi raccomando non fatelo anche voi a casa ho aperto per vedere come è fatto dentro e per essere un prodotto cinese alle solite cinesate ragazzi quanto è costruito bene all'interno un'ottima pulizia si apprezzano appunto queste due valvoline comunque cinesi che sono delle 6N3 e si apprezzano appunto gli amplificatori operazionali che sono dei 5532D e ce ne sono 4 2 per ogni canale quindi quello che vuole dire è un finto bilanciato no no è davvero un bilanciato si vede appunto come è stato progettato tra l'altro quando lo smontato è apprezzato anche la struttura esterna tutto in alluminio davvero spettacolare non è verniciato di rosso è rosso appunto anche tutto il metallo quindi è un anodizzato e tra l'altro dissipa benissimo la temperatura ho visto che dopo tre ore acceso arriva al centro ma proprio tra le due valvole alla folle temperatura di 42 gradi nessuna ventolina quindi assolutamente silenzioso e insomma queste cuffie come va iniziamo dalla mia preferita è lei l'HD660S di Sennheiser che è austriaca no la Sennheiser è austriaca o tedesca? tedesca dovrebbe essere comunque è la mia preferita vi rimando qui sopra alla sua prova completa collegata come giusto che sia tramite il cavo bilanciato a massa separata il classico XLR 4 poli e la pilota in maniera davvero stupenda tra l'altro delle tre cuffie propongo è quella che a un volume alto devo tenere la manopola a 32 quindi effettivamente a meno della metà della potenza si sente in maniera davvero fantastica poi parlo tra poco del suono prendendo le mitiche Spirit Torino anche di queste vi rimando la prova qui sopra gli serve un pelo più di corrente per dire la loro devo andare alla manopola a 29 anche qui davvero fantastica poi sono andato sul cattivo ho preso le Beyerdynamic di T100 sono le stesse cuffie utilizzate in studio dai Queen non so se avete visto il film appunto uscito recentemente dal cinema oppure anche dai Pink Floyd insomma se vedete tutt'oggi dei video dentro i studi di Happy Road quelli dei Beatles per intenderci ancora utilizzano queste cuffie ma anche da vari speaker radiofonici vi dicendo cuffie pro ai 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 400 ohm infatti qui per spingere bene una manopola devo salire a meno 21 quindi diciamo sono a due terzi e effettivamente si sente che qui c'è qualche difficoltà però andiamo a guardare effettivamente la tabella delle potenze prendendo per esempio l'impedenza delle nostre HD di 660S vediamo infatti la differenza uno mi chiede ma qual è il vantaggio di utilizzare le masse separate è un'erogazione di corrente nettamente più muscolosa vediamo infatti che se utilizziamo l'uscita praticamente non bilanciata single hand per dirla in inglese abbiamo su 150 ohm 105 millivatt se andiamo sull'uscita invece bilanciata a masse separate abbiamo 565 millivatt quindi abbiamo una potenza all'incirca 5 volte superiore quindi ragazzi se potete utilizzate sempre se amate l'ascolto in cuffia con cuffie degne ovviamente di questo trattamento il collegamento a masse separate bilanciato che infatti vedete troviamo anche sulle super leggera della Spirit Torino detto questo penso che sia arrivato il momento di andare a vedere la pacellina con una certa attenzione per l'audio allora come suona questo P20 allora innanzitutto potenza i8 perché i8 perché in realtà la potenza ce n'è ma non tantissima quindi con cuffie facili da pilotare come se fossero appunto le Sennheiser perché le HD 660S sono state le S più facili da pilotare effettivamente il suono va molto bene ma appena metti su una cuffia difficile abbiamo visto poco fa come potrebbe essere la Beyerdynamic di T100 e la potenza gli manca essere praticamente sotto il watt fa una bella differenza ricordiamolo il mio sheet Juttenheim arriva a 7,5 watt quindi tutt'altra storia per questa ragione ai bassi gli do 7 attenzione quella resta dei bassi dipende praticamente dalla cuffia i bassi quando sono veloci hanno bisogno di corrente per spingere quindi se hai una cuffia facile gli darei tranquillamente un 8 anche 8,5 i bassi ma appena metti sulla cuffia difficile è il basso difficilmente gli sta dietro i medi invece 9 e qui sì quel vantaggio di queste valvoline 6 N3 che rendono il suono molto rotondo molto piacevole molto musicale medi davvero incredibili su un amplificatorino da 100 euro gli alti gli darei un 8 sono a posto non stratosferici straordinari però sì insomma bei alti il dettaglio complessivamente comunque rende molto bene quindi con buone registrazioni registrazioni a iris audio appunto ho ascoltato dei brani a 2496 il dettaglio sì c'è tutto l'equilibrio gli do un 7 è per la stessa ragione dei bassi dipende dalla cuffia con le Sennheiser gli darei 8 come equilibrio quando ci metti una cuffia più difficilina appunto vorrei avere una bella audezza di quelle toste per vedere appunto quando c'è bisogno di corrente buona come effettivamente va a reagire oppure no quindi gli do un 7 perché non riesce ad avere un equilibrio eccezionale con tutte le cuffie ma in dettaglio cos'è che mi piace di questo LOX GE sempre nomi impronunciabili mi capitano P20 allora innanzitutto la costruzione ragazzi è qualcosa di incredibile un oggettino appunto da 100 e spicci euro vedere appunto l'alluminio la lavorazione le feritoie ma anche il disegno delle feritoie con questi forellini che sono asimmetrici intorno alle valvole la luce messa sotto le valvole che non è pacchiana non è che fa una luce fortissima è flebile 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 si accompagna bene all'incandescenza dei filamenti appunto delle valvole insomma ragazzi è uno spettacolo ovvero un oggetto così ben costruito con questo prezzo la pulizia del suono una cosa non ho detto fin qui effettivamente devo dirlo prima è che questo amplificatore colleghi le cuffie lo accendi e metti il volume a zero quando la sorgente tipo il lettore cd sta in pausa senti il nulla il silenzio pieno non so quanti amplificatori spesso anche più costosi ma ci sono delle ragioni dietro prendi alzi il volume senti un ronzio punto di fondo qui ragazzi c'è il silenzio punto è costruito e progettato molto molto bene e poi sì il vantaggio maggiore è la musicalità queste due valvoline specialmente in gamma media rendono tutto molto più rotondo più musicale piacevole un ascolto davvero promosso infine l'ho detto fino alla nausea il prezzo il prezzo sono 100 euro che è davvero un miracolo per un prodotto appunto come questo infine cos'è che non mi piace in apertura abbiamo visto non ci sono le uscite passanti quindi se ho il mio preamplificatore e il mio finale e voglio metterlo qui in mezzo no non funziona bene perché appunto da qui entro ma da qui non posso riuscire verso il finale dovete avere un preamplificatore oppure un amplificatore integrato che abbia anche il rack out in modo da poter prendere l'uscita dell'amplificatore e buttarlo qui dentro oppure se lo collegate tipo un lettore cd ai noi o ascoltate il lettore cd collegato qui o lo ascoltate collegato agli amplificatori perché appunto non c'è questo venerdetto uscita di utilizzare se no uno sdoppiatore uno switch altra cosa appunto abbiamo detto la potenza siccome è realizzata la parte di potenza con degli operazionali le veri preferiti un pochettino più muscolosetti un po' più di sana sana castagna qui siamo sotto il watt io sono abituato allo Jutenheim più volte citato da 7,5 watt è tutta un'altra storia speriamo che la LoxG visto che è una ditta nuova neonata troverete molte poche recensioni online spero che anche gli stranieri vadano a cercare Gianluca Bocci insomma speriamo che sia l'inizio appunto per prodotti anche più muscolosi e anzi come al solito la domanda per chiudere il video se voi utilizzate un amplificatore per cuffie mi dite nei commenti quale utilizzate e quanti watt se lo sapete che non sempre sono dichiarati vai ad erogare per capire insomma nel mio pubblico quanti cercano amplificatori più musicali come questo o amplificatori più muscolosi non tipo questo purtroppo bene come sempre vi ringrazio per tutta la pazienza che vi porta fino in fondo ai miei video ciao e alla prossima ho detto ciao 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 ciao